Era diventato una vera e propria centrale dello spaccio, il World Club di Via Luciani a Montesilvano gestito da Massimo Cigolini, 44 anni di Montesilvano, arrestato ieri pomeriggio all'interno del locale insieme a Fabrizio Diodati, 48 anni sempre di Montesilvano. Il primo era la mente all'interno del locale, raccoglieva le prenotazioni e i proventi della droga ed offriva anche la possibilità di consumo immediato. Il secondo invece era il braccio che si occupava della consegna dello stupefacente per lo più cocaina. Nell'inchiesta dei carabinieri di Montesilvano partita nel settembre del 2014 e che hanno accertato oltre 200 cessioni di stupefacenti, ci sono altre denunce di consumatori ed assuntori ed altri arresti tra cui quello avvenuto in flagranza all'interno del supermercato Conad di Montesilvano il 7 aprile scorso di Antonio Scurti, 33 anni originario di Penne e sua moglie, entrambi colti nel momento dello scambio della droga. Scurti, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, si riforniva all'interno del locale gestito da Cigolini ma non gli rispondeva direttamente. Determinante ai fini dell'indagine l'uso delle intercettazioni audio-video all'interno del World Club. Difficile da documentare all'esterno perché la cessione dello stupefacente in tal unica si avveniva all'interno del circolo, quindi difficile da vedere anche dalle pattuglie in servizio di prevenzione all'esterno. Il gestore del circolo si faceva aiutare da altri due collaboratori. In alcune circostanze la contrattazione proprio dell'acquisto dello stupefacente avveniva all'interno senza neanche ricorrere all'audio. C'erano solo delle mimiche della gestualità con cui l'assuntore e colui poi che consegnava lo stupefacente prendevano accordo sul punto in cui incontrarsi.